Critiche al decreto arrivano dal Movimento 5 Stelle. È un decreto legge governativo, minestrone, che mette insieme una serie di provvedimenti, passa con la velocità della luce in Parlamento, dove ci dovrebbe essere il tempo di analizzare tutti i vari aspetti. Noi attraiamo, sì, gli investitori, ma cosa offriamo poi una volta che essi arrivano? Ad essere state ascoltate, oltre a Confindustria, Confedilizia, l'Istituto per il Commercio Estero e i rappresentanti del gestore servizi energetici. Grazie.